Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video raga E' uscito il Brawl Talk raga c'è un nuovo brawler e 3 skin ragazzi C'è una nuova 3 skin e un nuovo brawler raga che si chiama Sandy E' un leggendario Ok raga vediamo il video Ciao benvenuti al Brawl Talk Poi c'è Dania e Scheng Dania Guarda questo Ecco raga E' il primo Ragazzi se usa la sua super nessuno lo può vedere E' tipo la ulti di Leon Ma non è la ulti di Leon E' tipo tantissima sabbia che non li può vedere E' tipo purplish E' tipo purplish E' tipo purplish E' l'attacca 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 Questa è la modalità che mi capta? E la parola che finisce con il video, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividate, bella gara!